Tu oggi sei qui come anche un po' testimonial di questa unione Io sono qui come amica e come persona felice nel momento in cui i teatri chiudono un piccolo teatrino apre e quindi insomma bisogna festeggiare Ecco, come si può sposare oggi l'alta cucina con il teatro e l'intrattenimento? Beh, oggi proprio io vengo a teatro e esco facendo la spesa quindi sono due cose che secondo me sono perfette Poi sai, l'alta cucina e il teatro, il cinema hanno sempre avuto dei legami perché ti potrei citare tanzissimi film Mangiare l'uomo o donna o qualunque altro film tutto hospite dove la cucina fa parte proprio della vita dei personaggi che è la vita delle persone Per esempio quando sei a casa e ti rilassi e ti vedi magari un bel film in genere come lo accompagni? Con un bicchiere di vino? Assolutamente sì, un buon bicchiere di vino e poi si cucino qualcosa Mi piace cucinare, mi rilassa